Hai uno spazio che ti fa davvero sentire bene, quel luogo dove ti rifugi dal brutto tempo, dalle cattive persone e dalle delusioni, dove la luce giusta, l'arredamento accogliente e l'equilibrio dei colori ti irradia. La cucina è il luogo dove accogli i tuoi cari, che prepari da mangiare. Quando sono seduta nella mia scrivania è solida, la solidità, circondata dai libri, da tutti i colori dei libri che ho letto e che ho studiato. In ogni stanza c'è un po' di me, non mi sono mai limitata nello spazio. Io sono Federica, una mamma, una creativa e una designer di interni. E questo è il mio podcast, Archistar di provincia, storie di design dal mondo. In ogni puntata, sola o con ospiti speciali, racconterò storie mie o sui miei clienti, per aiutarti a non commettere costosissimi errori di progettazione, ma soprattutto a creare spazi che muovono emozioni, fanno sentire bene e creano dipendenza. Ascoltami su Spotify e tutte le piattaforme, condividilo con gli amici e lasciami tante, tante stelline. Questo podcast è registrato presso Garvan Acoustic di Faenza, azienda produttrice di casse acustiche e pannelli fonossorbenti di arredo. Musica di Matteo.